Un piccolo particolare, qui si parla di quegli angoli del vestito degli ebrei più osservanti che sono dei fili azzurri che ci dicono la sua fedeltà alla legge del Signore e Gesù era un ebreo così osservante che portava questi fili azzurri come ancora pochi ebrei osservanti portano oggi e volevano toccare proprio questi fili, Gesù ebreo fino in fondo. Ma volevo commentare la prima lettura, avete visto che quando tutti dicevano andrà tutto bene, non preoccuparti Geremia dice tutto sarà distrutto, porta al gioco. E adesso che tutto è distrutto, ok, il Signore vi ha puniti, ma tutto sarà ricostruito, ma tutto rinascerà. Quando tutti sono disperati, lui annuncia la speranza. Ecco, se veramente siete pieni della parola di Dio, se veramente i vostri criteri di giudizio partono dalla parola di Dio, dal Vangelo, voi sarete persone controcorrente. Voi direte cose, noterete cose che gli altri non notano. Farete discorsi che altri non fanno. Sarete profeti. È facile dire una cosa perché la dicono tutti. È difficile magari chi l'ha detta 50 anni prima quando non le diceva nessuno. E quando, ah va tutto bene, voi magari metterete in luce. Forse non va tutto bene come sembra. Guardate quanti poveri ci siamo dimenticati. E quando tutti sono disperati, voi sarete capaci di portare speranza. Ma la frase che volevo commentare oggi è proprio l'ultima frase. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Questo senso di essere popolo di Dio. Questo senso che noi abbiamo perduto. Molti dei nostri fratelli maggiori del popolo ebraico non hanno perduto questo. Sanno di essere popolo. E proprio questo essere popolo li ha fatti perseguitare per tante volte. E noi cristiani abbiamo perso la concezione di essere popolo. Siamo tanti singoli. E questa settimana dove in mezzo a noi c'è una giovane donna dell'Etiopia, una giovane donna del Kenya, un prete del Congo. Ma ditemi un po' se mentre parlavano le nostre suorine non sentivate molta più sintonia con loro che hanno una cultura diversa, una lingua diversa, che con tanti vostri compagni italiani. È vero o no? Cioè, siamo un popolo di quelli che sono stati toccati da Gesù Cristo. E questa esperienza è la stessa in tutte le latitudini. È la stessa qui in Europa, in Africa, in Asia, in America. E qualche volta ti stupisci a trovare questa sintonia profonda. Dobbiamo recuperare il sentirci popolo. Un popolo in cammino. Un popolo in mezzo agli altri popoli. Un popolo che per forza deve essere un popolo minoritario. Piccolo, debole, fragile. Delle volte bistrattato. Ma un popolo che deve essere autentico. Che deve testimoniare che è possibile una società diversa. Una società di fraternità. Che è possibile la pace. E testimoniarlo con i gesti semplici dell'accoglienza che abbiamo sentito ieri. e sentire quelle che sono le sofferenze della Chiesa dei cristiani in tutto il mondo come le mie sofferenze. I luoghi dove i miei fratelli e le mie sorelle sono perseguitati sono le mie persecuzioni. I luoghi dove i miei fratelli e le mie sorelle fanno più fatica nel camminare avanti sono le mie fatiche. Il Santo Padre è il nostro Padre. È la nostra guida. E oggi preghiamo per le sue intenzioni perché veramente è la guida di un popolo che è in mezzo a tutti i popoli. Ed è quello che tante volte si becca tutte le critiche come un parafulmine che porta la croce più di noi. Ecco, imparate a sentire questa identità profonda. Che non significa sentirsi migliori. Io vado a collaborare per la giustizia, per la pace, per la fraternità, con chiunque, quello che è attio, quello che è di qualsiasi concezione, non importa. Lavoriamo insieme. Perché un popolo non può vivere senza gli altri popoli, giusto? Però porto il mio specifico, porto il mio timbro, che è il timbro della fraternità, che è il timbro della comunione, del dialogo, dell'unità, quel timbro che mi dà Gesù. E sento che se faccio qualcosa, anche da solo nel mio luogo di lavoro, nella classe dove sono, nell'università dove studio, se faccio qualcosa in quell'ambiente, non sono io a nome mio, ma sono a nome di un popolo. Sono rappresentante di un corpo, di una comunità che sta dietro di me, che prega per me. E sento il sostegno di tutti gli altri. Ecco, chiediamo questo dono di recuperare il senso di essere popolo di Dio. Penso che sia uno dei grandi obiettivi del sinodo che stiamo vivendo, questa consultazione. Non so se anche voi vi siete trovati a dire le vostre proposte, cosa cambiare nella Chiesa, eccetera. Borga, non ne hanno detto di tutti i colori. È stato molto interessante. Il sinodo più bello è stato nella sede degli Alpini, con un pintone di vino, salame, e la gente non ha neanche cominciato a mangiare talmente diceva le sue. E poi con i genitori dell'asilo, e sentirsi ascoltati, sentire che la Chiesa ti interessa della tua opinione. Ecco, ma perché il Papa sta facendo questo? Certo, perché dobbiamo fare dei cambiamenti, cambiare delle cose, modificare, ma alla fine, per quanto modifichiamo, non modifichiamo mai abbastanza perché dobbiamo raggiungere Gesù Cristo. Quindi faremo qualcosa, vero? Ma saremo sempre peccatori come prima. Un po' meno, forse, speriamo, no? Quindi non è quello, ma è recuperare alla gente il fatto, la consapevolezza che tu sei parte di un popolo, che tu sei protagonista, che la Chiesa sei tu, che sei tu chiamato a portare avanti, a sentirti responsabile, di costruire questa comunità. Ma pensate che in certi paesi per 50 anni non c'è stato un prete che sia uno. Sapete come è arrivato il cristianesimo in Corea? Ci sono certe cose che io le racconto sempre, che qualcuno le ha già sentite 40 volte. È arrivato da un mercante, un mercante cinese, che era cristiano, e mentre portava le sue merci, parlava della sua fede. Ma era un laico. Certo, lui, in Cina c'erano i preti, i vescovi c'era, ma in Corea non si poteva, perché era vietato dall'imperatore. E allora lui ha battezzato, perché un cristiano può battezzare se non c'è un prete, un diacono, può farlo, no? E questi cristiani hanno formato piccole comunità e non avevano l'Eucaristia, e non avevano le chiese e si incontravano nella casa e avevano solo la parola di Dio. Qualche volta ne manco scritto, perché non era stata tradotta in coreano, raccontata. E per anni, per decenni, la chiesa è cresciuta e è diventata sempre più grande, finché finalmente il primo prete, dopo 50 anni, è potuto andare. Ecco, sempre più le comunità saranno in mano ai laici, saranno in mano a voi che porteranno avanti piccole comunità. La chiesa sarà fatta di piccole comunità, di piccole cellule, dove si sperimenta veramente la fraternità, il servizio per i poveri, per gli altri. allora siete voi i protagonisti. Se aveste questo sentore, sono parte di un popolo, non perché sono migliore, ma perché sono stato toccato da questa grazia e me ne sento responsabile. se questo popolo va nel male, non obbedisce al Signore, perché mica capitava solo all'antico popolo ebraico di andare verso il male, capita anche molto a noi, giusto? Non è che siamo migliori, anzi, forse siamo un po' peggiori. E' anche colpa mia che non mi impegno che non faccio la mia parte.